Ok ragazzi bentornati a questo nuovissimo video unico dal vostro negros, negros, negros si Unico nero di essere nero, di essere poco nero, di essere fiero di essere nero Cioè soprattutto di essere nero Di essere nero, ma di soprattutto cioè Avere la mentalità da nero, perché essere nero È come essere nero, non cambia niente Sapete ogni venerdì escono talmente così tante canzoni Tante reaction, tanti miei video Cioè faccio più video di quanti soldi vi dia vostro padre, vostro padre come paghetta Questa qua parla dei bianchi, dei neri Minca se i bianchi dassero poche soldi ai loro figli come paghetta avrete dubbi su Il fatto che fossero bianchi Dai, i video di oggi, che età è Che età è Nema età, errori Error, error, error freestyle Nient'altro, metti like e condividi e commenta Ho sento un nuovo singolo, quindi potete andare su YouTube Sotto in descrizione Schiacciare, iApp Music, iSpotify Non c'entra niente Questo lo dico per i neri, che la maggior parte dei neri hanno Spotify Mai Apple Music perché non ho mai l'iPhone Costa più l'iPhone che l'affitto di un euro in un anno Dai, nemmo i video Keta, fit, name, età, errori Fistare, dai Basta cagate Oggi voglio fare Sapete la cosa figa di sta canzone Oltre io che cerco di stopparla Perché ci sono i giornali Con le loro riviste Cioè, giornali che parlano di loro Sotto sfondo Con i voti coperti Figa Sarebbe bello fare un video così Cioè Pubblicare un Un singolo altra cosa Una falsa roba più figata Qua c'è un po' di quell'artista lì Come si chiama? Rondo? Proprio Si chiama Rondo? Rondo! Quello che si fa chiamare King The Drill Cioè Si è soprannominato da solo King The Drill King The Drill Anche sono sempre avuto dei dubbi su Rondo Sicuramente quello che fa Rondo A primo ascolto Si ci sta Proprio un po' a noia Essere sinceri Perché bisogna essere sinceri Bisogna dire quello che qualcuno vorrebbe ascoltare Mica faccio il primo A stare nel letto A farmi una pipa No? Piuttosto Cioè Dico Cioè La mentalità C'è la gabbia mentale C'è la La gabbia mentale del mio canale È la verità Cioè Io quando finisco le reaction Non sto lì a fare A fare A stare lì A fare A parlare A A specificare cosa mi piace Cioè La canzone mi è piaciuto Dico Le mie tre cazzate Le mie tre cazzate Dico una cosa decente Cioè È difficile quella Ma lo dico Poi vabbè Mi è piaciuto Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Non ciò Dico Dico Non mi è piaciuto Chiudo il video Anche perché non ho mai voglia di fare un cazzo Dai È questa la mentalità Che devono avere i youtuber Che fanno le reaction Se non sei lì A fare A dire Bla 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 Ha sbagliato questo Ha sbagliato questo Ha sbagliato questo Blah bla bla Questo non andava bene Ha sbagliato le linee metriche Il testo di qua 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 Sono sicuro Sono sicuro Che dietro sta cosa Si nasconde qualcos'altro Eccolo Eccolo L'otto del dieci Cosa esce Sicuramente Uscirà qualcosa Di nema Oppure di chetta Oppure insieme Parlando qualcosa insieme Quindi no Questo video Era un chill Ci vedo un altro video Quello che devo dire Ho già detto Durante il video Giusto perché Se dicesse le cose Alla fine del video Non sono Cioè Finse la reazione La gente se ne va Quindi la mia È una gabbia mentale Vi saluto a tutti Metti i like Fai sotto la descrizione Sotto il mio nuovo single